Da oggi dunque scatta il campionato di eccellenza che da quest'anno è sempre bene ricordarlo è la quinta serie assoluta del calcio italiano. Nel girone B dell'eccellenza siciliana il match più atteso è senza dubbio quello dello stadio dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto che vedrà di fronte due delle favorite assolute, Igea Virtus e Paternò. Impegno tutto sommato agevole per il nuovo Siracusa di Peppe Mascara e di mister Giuseppe Anastasi che al desimone riceve lo scordia. Il mister bianco di Sirio Silvestri dopo la splendida stagione passata riparte dalla matricola Castelbuonese mentre la Cireale va a vittoria. Promettono spettacolo le sfide Città di Messina Modica, Taormina Milazzo e San Pio X Rosolini.